E' un giovane avvocato, ha appena 26 anni e vuole dare un'impronta nuova al Partito Democratico. Da ieri Stefano Chiariello è il nuovo segretario del PD, partito di maggioranza relativa nella città di Barletta e che conta un sindaco, Maffei, due consiglieri regionali, Caracciolo e Menea, e ben 13 consiglieri comunali. Con Chiariello vince l'area che fa capo a Filippo Caracciolo e che ha come riferimenti nazionali e regionali Bersani, Emiliano e La Torre. 1.241 i voti di preferenza, il 52,23%, seguono Antonio Di Vincenzo, aria Maffei Letta, 664 voti per un 27,95% dei consensi e Katia Spadafora, 460 voti, 19,43%, aria Menea, l'area dei modem di Beppe Fioroni. Affluenza altissima alle urne al voto circa 2.400 dei 3.000 iscritti al PD. Intendiamo ridare un significato agli organi statutari. Poi penso che sia importante riconoscere il risultato che il Congresso ha stabilito, il suo significato. Il suo significato è innanzitutto quello ideale, quello di contributo che le diverse emozioni congressuali hanno portato, e anche quello della grande affluenza che si è manifestata nella giornata di ieri, che nel pomeriggio ha visto anche una pioggia fastidiosa per l'affluenza. Ma comunque i cittadini hanno dimostrato che hanno ancora bisogno dei partiti e hanno ancora bisogno della politica. Ora la partita si sposta sul piano politico amministrativo con l'asse Maffei Caracciolo, inevitabilmente messa in discussione dalla volontà del sindaco di mettere in campo un proprio candidato Di Vincenzo e di non supportare quello del consigliere regionale Caracciolo, ovvero Chiariello. L'intento è ora quello di riorganizzare il partito, di attutire le divisioni, di definire postazioni di potere importanti, come la presidenza del Consiglio Comunale e quattro assessorati che il PD dovrebbe spartirsi qualora si giunga ad una giunta definitiva. Chiariello è fiducioso. Il fatto che il Congresso abbia dato un risultato che non è di spaccatura ma piuttosto di chiarezza, fa sì che sarà più facile anche per il sindaco riconoscere l'interlocutore legittimato del PD e quindi confrontarsi con esso.